Ma che stiamo a scherzare? Scusa, dove sta l'Otello della Juventù? Otello? Della Juventus. Da Juventus? Ahah. In che senso? Ostello! No, Otello! Tutto il tratto appenninico da Bologna a Firenze che paesagisticamente è una favola! Papà, papà, l'ho preso io! Bravo, otto ad Anton Giulia e cinque alla mamma! Povera mamma, sto scherzandoci, ma che be altro! Manca un minuto alle 7.30, a questi quasi l'impiego per richiamare Lasci, d'accordo? Tu mi aspetti qua? Lasci! Lasci, un momento! Matta, tu mi adori? Sì! E allora lo vedi che la cosa è reciproca? Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia! Attento, fascio, che non ce metto niente! A me fascio, io fascio! A soccolo, io mica so comunista cosista!